Lo studio di architettura oggi deve per forza evolvere. Non può più essere uno studio semplicemente autoriale, ma deve proprio diventare una piattaforma in cui tante competenze diverse, tante conoscenze vengono accentrate in questo luogo. Quindi è il luogo che mette assieme le diverse specialità e le diverse conoscenze. Questa è l'idea del circle, di MDL Circle, che non vuole più essere solamente lo studio di Michele De Lucchi, ma lo studio di Michele De Lucchi che si apre a nuovi progettisti, a futurologi, scienziati, esperti delle più svariate discipline per inventare dei progetti nuovi, per inventare un futuro nel quale l'architettura è ancora protagonista in un modo diverso per il pianeta. Lo studio MDL è di Michele De Lucchi, quindi con Michele De Lucchi si è passato a questa evoluzione per dare molto più spazio ai giovani, perché i giovani sono il futuro di questo mondo. Ovviamente il coraggio di chi ha più esperienza è quello di essere al fianco dei giovani per far sì che questi giovani possano dare e portare innovazione in tutte le attività, in tutte le professioni. Nasce proprio dalla volontà di portare all'interno dello studio nuove tipologie. Lo studio è sempre nato sulla grafica, sull'interio, sul design, sull'architettura. Adesso vuole far nascere nuove tipologie edilizie, nuove tipologie edilizie che porteranno all'interno dello studio ulteriori personaggi che contribuiranno a creare queste nuove tipologie. Per cui non solo residenze, non solo uffici, non solo scuole, non solo alberghi, ma spazi che riescono a unire le culture e far ragionare sullo sviluppo della vita all'interno del nostro pianeta.